piccola diretta piccola diretta domanda per Giorgia per Giorgia mi limito a dire Giorgia intanto lei si fa chiamare Giorgia no non funziona il dilemma piccola direttina domanda rivolta alla Giorgia Giorgia cara Giorgia cara presidente Giorgia ma io mi domando ti faccio questa piccola domanda ma com'è possibile che una commissione di inchiesta per il pandemonio generale sia composta da alcuni personaggi quali la Ron Zulli che tutti ricordiamo bene guardiamo il cielo guardiamo amici guardate il cielo mentre riflettete su questa domanda io guardo il cielo e chiedo come è possibile ciao Rosaria ciao ragazzi Osama non mi vedete molto in diretta in questi giorni perché sono a casa quindi non sono in vacanza ma sto rifacendo gli studi la Jenny mi sta facendo lavorare come 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 un deportato dall'antica Roma cioè mi sono veramente mi sta massacrando tra parentesi ho appena fatto un volo che è incredibile perché mi sono seduto sullo sraio su un dondolo e ci ha mollato il tessuto non ride la Jenny che ride cosa ridi cosa ridi ho fatto un volo che stavo per ammazzarmi e per fortuna che non ero in diretta se no avreste sentito varie parolacce in vari stili in varie lingue diverse quindi però poniamo la domanda tutti insieme come è possibile una commissione Giorgia una commissione di inchiesta tu mi hai messo la Ron Zulli che era quella che diceva tutti dovete fare tutto obblighiamoli mettiamo l'obbligo non vanno più a lavorare diceva cose incredibili ma veramente ma veramente ha messo la russa la Ron Zulli cioè ragazzi personaggi capisco leghista borghi uno che si è sempre opposto agli obblighi e tutto ma la Ron Zulli chiudo la diretta con questa domandina e vado a preparare la cena Giorgia come può essere credibile una commissione di inchiesta Corlicia Ron Zulli di Forza Italia che era una delle più cattive contro quelli che dicevano no Green Pass era una delle più cattive come è possibile una presa in giro il dubbio più che lecito di oggi è questo Giorgia Meloni per l'ennesima volta ci sta prendendo in giro ogni dubbio è lecito anche se i dubbi guardiamo il cielo guardiamo il cero ciao a tutti